Siamo con Sandro Di Girolamo, il presidente della FISPIC, FISPIC. Suona bene. Parliamo, allora, dando bentornato ad Ascoli, perché sei venuto ad Ascoli per inaugurare finalmente un campo torpol ben preciso ad Ascoli e soprattutto per ricordare il capitano Malloni che ci ha lasciato. Sicuramente sì, è stato per me un vero piacere quello di venire ad Ascoli, perché non era previsto la mia presenza, però poi non me la sono sentita di non partecipare, perché ho fatto di tutto per partecipare, perché comunque in primis è l'amicizia che mi legava a Carlo e questo va oltre ogni valore sportivo e tutto quanto. Poi anche perché è una manifestazione importante, una manifestazione promozionale che comunque ha richiamato tutta la cittadinanza di Ascoli e anche al di fuori e soprattutto perché erano presenti quattro nostre discipline a dimostrare le nostre attività in onore di Carlo, in onore del Memorial Carlo Malloni. E adesso però sei indaffarato in questi giorni perché le attività stanno riprendendo e non solo a livello atletico, ma soprattutto anche a livello burocratico, perché c'è da organizzare un po' tutto l'insieme. Sì, sicuramente adesso stiamo riprendendo a pieno regime, stiamo riprendendo le attività, sia attività promozionali, sia allenamenti, ma anche le attività agonistiche, perché noi come federazione abbiamo preso una linea ben chiara, forse anche a differenza di molte altre federazioni, abbiamo voluto in qualche modo, sempre rispettando le normative covid abbiamo voluto recuperare e chiudere i campionati della stagione 2019-2020, quindi impegnativo per questo, perché comunque ci sono diverse discipline che stanno terminando i campionati, da adesso a fine ottobre e soprattutto il riavvio, l'avvio proprio della nuova stagione che partirà dal 26 di ottobre e quindi capite bene la difficoltà, le tante problematiche legate al covid, ma con molta attenzione, con un lavoro di squadra, con la segreteria e con i direttori sportivi e anche con le società stiamo curando al dettaglio. Abbiamo visto che comunque vada, voi fate non solo attività appunto agonistiche, ma anche di informazione, perché abbiamo visto adesso ultimamente che state promuovendo un corso che avete per la questione del covid, abbiamo visto sul sito e quindi ci informiamo che chi vuole partecipare a un corso adeguato a queste situazioni. Sì, noi ci muoviamo a 360 gradi, perché comunque sì, parliamo di sport, ma soprattutto diamo la possibilità anche, andiamo incontro alle nostre società, a tutti gli enti che lavorano con noi, che ci circondano, di potersi mettere in regola e soprattutto in questo modo cerchiamo di evitare i contagi, di evitare tutte le problematiche che sono legate a questa emergenza nazionale. A questo punto concludiamo dicendo, quali sono gli obiettivi adesso della federazione, ma soprattutto di Sandro, visto che è imminente poi il rinnovo delle cariche? L'obiettivo sicuramente è quello di fare bene con questa fine stagione, con queste gare importanti che sono rimaste, perché comunque curiamo, come abbiamo sempre fatto al dettaglio tutte le nostre manifestazioni e nel futuro sicuramente è quella di progettare questa federazione che vada sempre più forte, che si sviluppi sempre di più a livello proprio internazionale, nazionale, insomma la strada è percorsa, il solco l'abbiamo individuato, però adesso bisogna seguire la strada che abbiamo avviato e cercare di fare sempre meglio. Perfetto, allora noi ti salutiamo e andando ti facciamo gli auguri per il prossimo 20, ma poi gli auguri successivi, poi ci sentiremo dopo le lezioni, così racconteremo a quel punto la partenza dei prossimi obiettivi che già hai indicato nella strada successiva. Io vi ringrazio e ci sentiamo presto.